Mario Di Cristina, vicepresidente nazionale a Mira, oggi qui a Brolo per inaugurare, per dare il mio ufficialmente, la sezione Nebrodi e Isole Olie. Spieghiamo un po' quali sono le attività della Mira, perché è così importante anche la sua presenza in un territorio come questo, dove la presenza di strutture, anche ricettive, alberghiere, della ristorazione è abbastanza importante. La Mira, innanzitutto si onora la Mira di avere una nuova sezione in questa zona della Sicilia, noi abbiamo già quattro sezioni tra Palermo, Taormina, Ragusa e Caltanissetta, quindi questo è un valore aggiunto per la Mira. La sezione a Mira in questa zona non può fare altro che portare profitto innanzitutto alla Mira stessa, perché il valore viene dato da chi effettivamente partecipa, non è la Mira che porta un valore. Però la Mira porta quel senso di amicale, di professionalità che porta beneficio al METR. Il beneficio qual è? La Mira nasce come amicale, nasce circa 60 anni fa. È un amicale, cioè dove tanti METR colleghi parlano, discutono, antepongono e sovrappongono idee nuove alla ristorazione. Adesso la nuova ristorazione è diventata molto versatile, molto di nicchia, perché sappiamo che ci sono tante varianti, ma la cosa importante adesso è cercare la soluzione per i ragazzi, i ragazzi che crescono, i ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere. Siccome la Mira seleziona METR d'hotel e non ragazzi, adesso la Mira si è aperta anche in questo, cioè di far sì che i ragazzi possano far parte di questa famiglia e noi sicuramente godere della loro gioventù. Tutto quello che possiamo donare, cioè quel poco che sappiamo di professionalità etica e conoscenza e accoglienza, vogliamo darlo ai ragazzi, con la collaborazione degli insegnanti e degli istituti alberghieri, che è molto importante, perché noi non vogliamo entrare negli istituti alberghieri se non tramite i loro insegnanti. Dopo di ciò anche i nostri grandi maestri della ristorazione porteranno il suo apporto. Ecco, come diceva appunto questa delle scuole è una novità molto importante per quanto riguarda l'associazione, ma ci sono anche altre iniziative volte per esempio all'inserimento lavorativo dei ragazzi diversamente abili. Questa è un'altra bella variante. Dicevo poc'anzi, prima di iniziare, che una sezione della Sicilia, in questo caso Taormina, assieme alla nuova nata Caltanissetta, ha fatto una bellissima iniziativa, che è quella di creare un ristorante dedito a questi ragazzi speciali, quindi con tutte le loro, tra virgolette, perplessità, sono riusciti a estrapolare il meglio di questi ragazzi speciali, facendo un posto che viene chiamato un posto tranquillo, si trova a Caltanissetta, ed è la meraviglia nella ristorazione perché effettivamente tende ad esaltare quello che questi ragazzi possono dare. Innanzitutto, ho detto prima, possono dare amore, ed è la cosa più bella che possono dare questi ragazzi. Poi lo richiedono l'amore perché cercano conforto, cercano professionalità. Non è importante quanto imparano, è importante che si lasciano a casa quello che già hanno, entrando in una nuova cognizione di lavoro, poi lo riprenderanno uscendo, ma sicuramente è una bellissima iniziativa che suggerisco a tutte le sezioni d'Italia, di creare un posto per ragazzi speciali. Grazie a lei.